salve bella gente qui gabby e finalmente eccoci ad un nuovo episodio delle hunger games si aspettate aspettate fatemi togliere le nuvole ok 6 secondi e si parte veramente siete stati in tantissimi che mi avete chiesto di farne una e perciò eccomi qui pronto per voi a rubarmi qualcosa ok mi sono rubato dei piedini di ferro benissimo possiamo fuggire fuggire da questo posto in tutta velocità dove siamo non lo so uno mi ha già tirato un pugno di cattiveria proprio io volo giù dalla piramide dobbiamo trovarci qualche cesto guardate che mappa assurda è stupenda sta mappa dobbiamo trovare delle ceste come al solito stavo per finire in un pozzo di lava ragazzi è da tantissimo che non ci sto giocando a queste hunger games perciò speriamo di fare bene ma io voglio vincere questa qua mi impegno non me ne frega niente voglio arrivare al minimo minimo terzo in classifica come raggiungere quella cesta così ok l'abbiamo raggiunta perfetto abbiamo trovato una spada di legno possiamo già allora metterci la nostra armatura tantissima gente sta morendo c'è un tizio qua paperino che adesso morirà tra poco morirà ok c'è il primo che vuole combattere ma ha fatto una brutta fine ora dobbiamo scappare da paperino paperino malvagio paperino non osare toccarmi ok paperino mi ha lasciato in pace ma io ritornerò paperino io ritornerò no lasciami recuperarmi la vita paperino lasciami qua 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 io so che viene là in seguirmi con i suoi versi da da papera qua 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 vedetelo lì che mi stai seguendo odierai cactus non lo so però lui ha una spada di roccia che non mi piace ha un eh sì paperino basta usare i trucchi c'è un papero del cavolo ma aspetta solo che io mi recuperi la vita eh aspetta solo quello uh per fortuna c'è qualcuno che mi sta salvando dal papero hai fatto male in seguirmi vedetevela voi due ora guardate guardate poi da dove si colpiscono da due chilometri io non so veramente come fanno questi qua usano i trucchi potrei anche provare ad attaccarlo il tizio ma no non lo attacco fuggo fuggo devo fuggire devo fuggire devo fuggire in mezzo ai cactus nella foresta dei cactus malvagi gabby si rifugiò stando bene attento a non prendere le spine nel di dietro ecco vedo un paio di giocatori ok cerchiamo di portare quello che appena ammazzato l'altro dai dai buon natale sono qui per portarvi un pacco regalo ce l'ho dietro mi sta seguendo sto pacco regalo voglio portarlo a voi è qui dietro di me spedizione gratuita merda però non so quanto resisterò non ho la barra del cibo che si sta ricaricando c'è perché devo avere del tempo per mangiare questi qua stanno continuando a scappare dove non voglio tornate indietro ecco babbo babbo vieni qui babbo babbo ti prego ok babbo ok 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 ora li ho fatti incontrare li ho fatti incontrare li ho fatti incontrare benissimo il piano è andato a dovere si stanno ammazzando fra di loro l'ho portato nella trappola e ora posso sfruttare l'occasione per ucciderli in qualche modo qui c'era una cesta l'avevano già aperta no vedo che quello sta scappando e io posso inseguire da dietro babbo ora ora posso seguirlo loro pensano che io sia fuggito ma in realtà sto seguendo tutto da dietro babbo malvagio babbo di merda babbo di merda usare i trucchi babbo non ti porterà la felicità perché guardate come ho usato i trucchi si vedeva lontano un chilometro con la sua scelta marcia mannaggia mi stai costringendo a fare una nuova hunger game scusate ragazzi questa qua era di prova il papo il pappo il pacco è andato a dovere ma io sono morto nel tentativo forse era meglio che fuggivo ma non importa adesso ne facciamo un'altra noi perché noi siamo mamma mia babbo questo natale ti lancio tanto di quel carbone va bene dai cambiamo hunger games ok ragazzi questa volta siamo in una nuova lobby questa volta voglio vincere cerchiamo di prenderci quella chest devo correre come un felino gatto pardo ok quella deve essere mia quella deve essere mia anzi no quella abbiamo già trovato uh mamma mia quanta roba ok così tanta che adesso voglia di sfuggire fuggiamo tranquillamente in pace e dobbiamo procurarci un bel po di roba allora andiamo qui a sinistra vedo già una chest abbiamo la nostra prima arma un'ascia di legno marcio per ora va bene questa ok abbiamo già dietro un tizio che sembra abbastanza armato anch'io sono armato ok ok non inseguirmi non inseguirmi bravo vai la vai la vai la e tu muori stewee stewee devi morire e datemi l'accendino ok sono mister piromani ho due accendini bene se qualcuno si avvicina mamma mia gli do fuoco cerchiamo allora di bruciare qualcuno allora qua c'è un tizio che vorrei bruciare ma sta scappando quindi per ora dobbiamo ma dove siamo siamo fuori sulla luna questa è la mappa della luna qui ci sono due che sono alleati molto probabilmente arriverà il primo a cui devo dare fuoco non preoccuparti non preoccuparti allora ora tecnica Gabby numero uno quando hai due giocatori alle calcagna intanto dagli fuoco ecco bene ora li ho un po' rallentati ma loro non sanno che io ho un altro accendino e allora adesso facciamo un gioco facciamo un gioco bene ora gli ho dato fuoco perfetto no non c'è niente dentro questa cesta peccato va bene ora che abbiamo fatto questo giochetto un po' troll ovviamente loro sono arrabbiati con me e non credo che mi lasceranno andare così facilmente o forse si forse hanno perso la voglia di inseguirmi beh penso di averli fatti un po' rosicare con questa tecnica allora lì vedo una doppia cesta vorrei raggiungerla ma come fare da qui sicuramente non posso raggiungerla poi mi sono stufato di quest'ascia e vorrei trovare qualcosa di meglio qui infatti c'è una cesta archi cibo l'arco ce l'ho già vorrei trovare invece una spada una spada di roccia dove potremmo trovarla non lo so a questo proviamo a rientrare qui dentro forse loro se ne sono andati adesso speriamo di sì no la vedo un giocatore sì due giocatori sono lì dentro ho sbaglio sono proprio dentro la stanza ok stiamo a bassi manteniamo il profilo basso no non entrate per di qua non entrate per di qua entrano per di qua ma questi usano i trucchi questi usano i trucchi come facevano a sapere che ero lì proprio lì entrano ok non importa non importa noi adesso ci prendiamo la doppia cesta di prima ok abbiamo la spada proprio quello che volevo ora possiamo fuggire con la spada io volevo solo questa l'ho presa e sono scappato la spada di roccia bene e si sono anche distratti sulla cesta mi hanno lasciato tutto il tempo di fuggire forse questa hunger games ce la portiamo a casa lo dico sempre ma questa non so ha un senso speciale non proprio a casa dato che non è che siamo messi benissimo ma qualcosa possiamo fare vediamo che giocatori ci sono un paio di giocatori ci sono ancora qui cosa c'è? un meteorite che si è schiantato sulla superficie a proposito poi volevo anche dirvi che nella serie di minecraft hardcore ufficiale andremo a vedere una mod che ci porterà praticamente sulla luna su altri pianeti ma è veramente tanto complicata devo un po' studiarmela sarà una serie epica ve lo dico già è assurda quella mod ok ha un altro corpetto vediamo cosa ho io mi mancano i piedini ok ora abbiamo pure i piedini spada piedini arco metto anche l'arco bene siamo praticamente pronti cerchiamo di uccidere qualcuno ora dai qualche scarso in giro che non abbia l'armatura di ferro allora adesso torno un attimo a centro campo per vedere magari se qualcuno si è dimenticato qualcosa ok ragazzi sto sfuggendo da uno dietro dobbiamo fare in fretta qua ho un arco io ho un arco che può esserci utile più avanti nei nostri combattimenti allora stiamo facendo il giro giro tondo allora possiamo andare avanti tutta la vita e io qua io qua non ho intenzione di darla così velocemente questa Hunger Games mi dispiace ok tempo di fuggire tempo di correre ok amico ora tocca a me torni indietro l'ho colpito una seconda volta ok siamo riusciti a tenerlo a bada mamma mia qua ce la siamo vista proprio brutta speriamo che non mi segua ancora forse ha perso la voglia anche lui ragazzi sto usando tutte le mie risorse a disposizione in questa Hunger Games non è affatto facile andare in giro con un'armatura che poi sembra un arlecchino sembra veramente un pagliaccio vestito così però sono costretto per ora a essere un pagliaccio ma se qualcuno di un po' più debole mi capita fra le mani vedrete il pagliaccio diventa qualcun altro ok adesso ci muoviamo basta stare nascosti cerchiamo di attaccare qualcuno dai dobbiamo trovare qualcuno che non sia in gruppo e che sia un po' scarso dai ci sono ancora un paio di giocatori 20 minuti al deadmatch ok forse quella è la mia preda vedo qualcuno lì ok forse questo ce lo uccidiamo sembra più potente di me ma io per fortuna una mela d'oro ora si è nascosto ok con la mela d'oro e l'arco dovremmo farce anche lui si è mangiato una mela d'oro ok una freccia l'ha beccato due frecce l'hanno beccato torna qui torna qui se hai il coraggio questo però è abbastanza potente questo è potentino questo è abbastanza potente ma anche noi possiamo farcela anche noi possiamo farcela anche noi possiamo farcela anche noi l'ho ucciso ce l'abbiamo fatta ora scappiamo qui sopra un attimo che devo riprendermi da questo combattimento pensavo che non ce l'avrei fatta merda un tizio con la spada di diamante non credo che questa hunger games la vinceremo ma comunque sono molto soddisfatto di com'è andata cioè abbiamo fatto delle robe assurde in questa hunger games proprio giocata da pro gamers ok recuperiamoci un po' di vita non c'è nessuno ragazzi veramente sto giocando questa hunger games alle 23 non sapete no alle 23 è mezzanotte e 13 che cavolo sono mezzo addormentato quanti sono rimasti solo 3 giocatori oltre a me scendiamo dobbiamo inseguirli dobbiamo sfruttare tipo quando quella spada di diamante è debole magari mentre attacca un altro lo attacchiamo alle spalle possiamo ucciderlo spero di non trovarmelo qui davanti in faccia oh 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 pantaloni di ferro abbiamo la chest play di ferro e siamo full iron quanti diamanti ho? quanto ferro ho? poco poco peccato non posso nemmeno craftarmi né una spada di diamante né una spada di ferro però almeno siamo full iron ora buono 60 secondi al dead match cerchiamo di stare vivi fino a lì spero che quei due non siano alleati non devono essere alleati assolutamente perché possiamo vincerla se non sono alleati perché si attaccano a vicenda e noi dobbiamo sfruttare tipo stare lontani dal combattimento quanto manca? 30 secondi beh aspettiamo a questo punto aspettiamo mi metto qui sopra e aspetto che scada il tempo ok il tizio con la spada di legno non ha la spada di diamante siamo sicuri? sono sembrano alleate perché hanno tutte e due la stessa faccia da ragazzina ok si tutte e due mi sa che sono alleate ok c'è solo una cosa a fare salire non ce l'ho fatta merda merda non sono riuscito a salire ok mi vogliono chiudere ma non c'è fretta non c'è fretta ok Gabby sali bene sono salito ragazzi questa è una cosa buona mentre loro due si uccidono dai 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 vieni qui vieni qui uh non ce la facciamo dai che si ammazzano dai che si ammazzano dai un altro colpo gli ho dato quella con l'armatura di diamante è bella morta anche lei è debole torniamo sopra devo recuperarmi la vita devo scappare ora sono morto non ci credo non ci credo sono morto no ma ero dentro sti fulmini di merda mamma va bene ragazzi questa è stata una partita epica devo dire ho fatto un fail alla fine non pensavo che se stavo qui dentro sarei morto forse mi sarei dovuto buttare un po' di più quando quella era sopra ma comunque veramente sono soddisfatto di come sia andata questa partita io ragazzi spero che questo episodio di minecraft hardcore vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti se ne volete altri e noi ci vediamo al prossimo ciao ragazzi ciao 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 ciao